Ciao ragazzi, oggi è l'ultimo giorno di vacanza, sono venuto su in montagna a farmi in giro, stamattina ho fatto il torrente principale della valle, ma purtroppo poco e niente, quattro pesci, era gonfio d'acqua perché stanotte ha fatto dei bei temporali su, pensavo di prendere qualcosa di taglia, invece quattro trottelle normali, allora oggi pomeriggio ho ripiegato su questo laterale, mai fatto, prima volta che lo faccio ho fatto un tratto a caso, a mia aspirazione, devo dire che è davvero uno spettacolo, torrentello pieno di pesce, come potete vedere nel video, taglia da torrentello è da una spana massimo a 30 cm, ne ho perse due belle, sono state due belle sui 35-40, belle per il posto che è perché più di tanto di taglia dentro qua non c'è, sono rimasto deluso stamattina perché secondo me sono passati troppi padellari nei tratti che ho fatto, purtroppo agosto col turismo e tutto è un casino, peccato prima ho perso una scena e pensavo di avere la telecamera accesa, invece ho fatto così e l'ho spenta, mi sono sbucati fuori sul torrente due caprioli, uno è scappato, uno si è girato ma ha guardato, poi tum tum, due balzi è scappato, ero convinto di avere acceso la telecamera e invece l'ho spenta, come al solito faccio le mie cazzate. Adesso ormai la giornata è finita, sono le quattro e mezza, c'è un'oretta buona per arrivare alla macchina e quasi due ore per arrivare a casa, quindi mi avvio la macchina, mi raccomando lasciate il like, iscrivetevi al video e al prossimo video, ciao ragazzi! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutana, tazzo. Tutanissima. Scurissima. Tutanissima. Tutanissima. Tutanissima.